buongiorno benvenuti a questa terza conversazione sulla prassi filosofica allora nelle prime due nelle prime due conversazioni ho provato a spiegare quello che secondo me è l'identità del cosiddetto mediatore filosofico cioè il trait d'union tra la vita quotidiana e il discorso filosofico abbiamo detto ho cercato di spiegare che non è un mediatore tra singoli individui in conflitto tra loro così come non è un mediatore tra individui e tra singoli e i loro problemi in realtà è una forma di mediazione tra individui quotidianità e sguardo filosofico è una forma di mediazione tra l'immediatezza della quotidianità e lo sguardo filosofico che invece obbliga al porre la domanda al mettere in questione obbliga cioè a meravigliarsi a sottrarre la banalità della vita di tutti i giorni alla indifferenza e all'impensato e costringe viceversa a porre delle domande su ciò che fa parte del fatto umano e a tirar fuori dall'impensato cose che meritano di essere di essere evidenziate il mediatore filosofico in questo senso accompagna gli interlocutori gli ospiti a me piace di più questa espressione ospiti perché mi ricorda il vincolo etico dell'accoglienza dell'ascolto del prendersi cura il mediatore filosofico allora accompagna i suoi interlocutori i suoi ospiti alla scoperta all'esplorazione di territori ignoti dalla quotidianità delle della vita del fatto umano al mondo del senso al mondo dei valori al mondo delle ragioni così come per usare una metafora potremmo dire dalla terra alla luna tutto ciò avviene abbiamo già abbiamo già detto tutto ciò avviene all'interno di un campo specifico che abbiamo appunto nominato come prassi filosofica e allora lo scopo di questo di questa conversazione di oggi sarebbe quello di provare a dare degli input del delle delimitazioni a questo campo che cos'è la prassi filosofica come io la sto cercando di di proporre di spiegare di testimoniare ecco prima di tutto beh parto subito per evitare degli equivoci che so essere molto facili chiarendo una cosa cioè in primo luogo la prassi filosofica così come io la sto presentando non ha bisogno di fare storia della filosofia questo importante soprattutto per chi sta già dentro l'ambito filosofico e sono essenzialmente due le ragioni per cui la prassi filosofica non ha bisogno di fare storia della filosofia che resta una attività disciplina straordinariamente utile interessante è però diversa dalla prassi filosofica che non ne ha bisogno perché innanzitutto perché non ha bisogno di accreditarsi la prassi filosofica non è destinata a restare questo bisogna dirlo con grande franchezza cioè un una pratica si esaurisce nell'evento della relazione dialogica e lì finisce inoltre i suoi interlocutori sono sempre degli altri viventi parlanti non sono nei monumenti della tradizione platon aristotele cartesio nice eccetera e nemmeno i testi nemmeno i testi per quanto i testi della tradizione filosofica possono essere strumenti funzionali straordinari utilissimi però destinati non alle esegesi ma piuttosto all'input dialogico cioè devono essere possono essere utilizzati liberamente a mio modo di vedere ma sempre intesi come partecipanti al dialogo partecipanti al dialogo che offrono il loro input che può essere colto raccolto frainteso sviluppato eccetera eccetera da tutti gli altri parlanti presenti in quella evento di prassi filosofica quindi primo luogo non è un luogo in cui si faccia storia della filosofia in secondo luogo anche qui forse qualcuno non sarà d'accordo secondo me la prassi filosofica e il filosofo che la conduce non è mai neutrale non può essere neutrale non ha come obiettivo la neutralità diciamolo meglio non ha come obiettivo la neutralità ogni filosofo mediatore a mio modo di vedere e partecipa di una prassi filosofica ed è portatore è figlio di una tradizione di una formazione di una persuasione dove aver fatto un suo percorso di consapevolezza per far emergere queste persuasioni perché è ovvio che se sono implicite sono dannose e pericolose ma devono essere esplicite ma devono esserci ci sono inevitabilmente e il mediatore filosofico deve sapere di essere portatore di una serie di persuasioni mentre a contrario a differenza del sofista cioè del filosofo chiamiamolo così in maniera generica che ha come obiettivo quella di convincerti una figura questa che oggi è in realtà assume le vesti più che del filosofo del pubblicitario o del politico anzi tra pubblicitario e politico ormai la differenza è veramente minima la propaganda politica è di fatto una propaganda di politica pubblicitaria chiusa questa parentesi non ci interessa allo stesso modo il consulente filosofico abbiamo detto che non è mai neutrale si comporta però in maniera diversa dal pedagogo dall'insegnante puro e semplice che invece deve istruirti e qui si apre quel campo molto complesso quella grande difficoltà obiettivamente dell'insegnamento della filosofia tutti coloro che hanno tentato di insegnare filosofia lo sanno quanto è difficile farlo perché si è sempre ambiguamente su un crinale da una parte la trasmissione dei contenuti la pura trasmissione dei contenuti dall'altro non soltanto come con un po di retorica si dice no la lo sviluppo dello spirito critico che certo è assolutamente molto importante sviluppare il senso critico negli studenti però non è questa la chiave secondo me la chiave invece la possibilità che l'insegnante di filosofia ha di mediare tra lo studente che nulla sa di fatto che di filosofia con un campo vitale che per lui sarà probabilmente molto assolutamente nuovo che è appunto il campo della filosofia tutti hanno tutti quelli che hanno studiato filosofia all'università ad esempio soprattutto all'università ma anche a licei in qualche caso possono ricordare bene no insegnanti di grandissima preparazione magari ma ma assolutamente freddi glaciali e insegnanti che erano capaci di dare qualcosa in più che andava al di là delle nozioni molto al di là delle nozioni perché era proprio ciò che dava il senso di aver scelto lo studio della filosofia piuttosto che quello della medicina o del diritto personalmente nella mia esperienza personale devo dire io ho questo ricordo bellissimo dell'insegnamento di Emanuele Severino del quale in verità io sono poche le cose che io prendo da Severino non mi ritrovo completamente nella sua dottrina non è il mio punto di riferimento filosofico tuttavia ho il ricordo di un grandissimo insegnamento di insegnamento appunto capace di portarti in un altro mondo nel mondo della filosofia il vero mediatore filosofico da questo punto di vista allora riassumendo abbiamo detto la prassi filosofica non ha bisogno della storia della filosofia non è mai neutrale in terzo luogo la prassi filosofica non agisce come logos che dice la verità né attenzione nemmeno come quella infinita un po' ossessiva interpretazione della verità che è di moda e di moda oggi secondo me la prassi filosofica nella mia esperienza nella mia testimonianza è appunto una testimonianza di verità locali io da molti anni uso questa espressione di verità locali per indicare tutto quel sistema di ragioni di valori di punti di riferimento abbastanza solidi da diventare regolativi per un'esistenza ma mai definitivi nel senso che sono sempre soggetti all'interrogazione alla domanda alla messa in questione restano cioè anche se sono i nostri grandi valori personali restano le vocabili allora testimoniare le proprie verità locali questo è il lavoro che accade all'interno della prassi filosofica testimoniare in che forma la narrazione la messa in questione l'argomentazione beh qui veniamo forse al nocciolo duro di questo incontro di questa conversazione perché io penso che nella prassi filosofica i due momenti il racconto e il logos nel senso che ho appena detto coesistono non solo possono ma devono coesistere da un lato cioè il racconto dell'esperienza le storie la biografia il raccontarsi come forma di identità il raccontarsi come tentativo di mettere in ordine di rendere esplicite delle ragioni che si possiedono o che non si possiedono e dall'altra parte il logos come appunto come argomentazione razionale la filosofia è anche argomentazione razionale come esplicitazione di verità locali punti di riferimento fissi valori eccetera produzione di concetti che è la definizione della filosofia secondo Deleuze e Gattari ma che io confermo assolutamente la filosofia certamente è quel discorso che ha a che fare con la verità e produce concetti non c'è dubbio su questo allora però il racconto e il logos, il mitos potremmo dirlo per equivalenza di figura i mitos e il logos sono coesistenti all'interno della prassi filosofica c'è una frase che voglio ricordare molto bella di Sergio Givone che sta chiaramente commentando Platone che dice molto esplicitamente ci sono cose che hanno bisogno del logos e altre che hanno bisogno del mitos e non se ne esce da questa cosa io l'ho sperimentato su me stesso nel senso che è il motivo per cui mi sono messo anche a scrivere dei romanzi adesso sto scrivendo dei romanzi e non è una contraddizione con il lavoro di filosofo che ho fatto e che faccio ma anzi è una conferma di quel lavoro è un sentiero non interrotto è un sentiero, cioè un modo diverso di approcciarsi alla meraviglia di approcciarsi al domandare i miei romanzi sono rivolti tutti al futuro, non a caso perché sono proprio una domanda rispetto al possibile sono un'interrogazione rispetto al possibile, non semplicemente un bilancio del passato allora questo secondo me è la prassi filosofica una modalità di costituire un spazio, spazio-tempo potremmo dire un contesto all'interno di altri contesti abbiamo detto all'inizio di queste conversazioni nella quale non si fa storia della filosofia ma c'è un filosofo che non è affatto neutrale ma è portatore delle proprie persuasioni che non agisce per convincere né per istruire ma per creare un campo di forze un campo di forze all'interno del quale il non filosofo viene accompagnato dalla quotidianità della sua vita alla filosofia che è capace di dare senso alla sua esistenza quotidiana che è capace di rivelare all'interno delle sue scelte del fatto quotidiano del fatto umano che lo caratterizza valori principi argomentazioni errori affermazioni negazioni e in questo campo di forze ci si confronta testimoniando ci si confronta narrando la narrazione fa parte necessariamente di questo tipo di incontro è un tipo di incontro appunto nel quale ci si narra ci si narra per mettersi in discussione per trovare il senso delle ragioni dei fatti non semplicemente la narrazione dei fatti ma la ragione dei fatti che è sempre però un dato collettivo che è sempre un dato sociale nessuno pensa e parla da solo non esistono pensieri privati e linguaggi privati come non esistono abbiamo già detto valori privati perché tutto ciò che ci accade ci accade socialmente perché non siamo soltanto singoli ma siamo pluralità è una cosa che continuo a dire e che continuano a dire magari dedicherò una conversazione proprio a questo però la cosa che è importante è capire che dobbiamo in qualche maniera trovare il modo di raccontare socialmente il nostro essere plurali e non soltanto individuali siamo anche individui ma non solo individui nella prossima conversazione proverò a esplicitare meglio il problema del rapporto tra l'interno e l'esterno l'interiorità e l'esteriorità e quindi l'individualità e la socialità sono due cose complesse perché stanno insieme non sono due cose distinte ma sono la stessa cosa un intrico appunto una delle dimensioni della complessità la prossima lezione sarà dedicata proprio a questo per il momento vi lascio la riflessione vi ringrazio vi do appuntamento alla prossima settimana vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio